Il Green Jobs è un modo per affrontare in modo integrato queste problematiche, quelle di un ambiente che va curato per garantire il futuro di tutti noi e quello di garantire un futuro sostenibile a tutti noi anche dando delle opportunità prima di tutto ai giovani. La vostra voglia di essere attori del vostro futuro, di lavorare insieme del proprio interesse ma dell'interesse della comunità, di fare un buon lavoro, di sviluppare delle buone attività produttive, la vostra intelligenza di integrare obiettivi, di cogliere al volo quest'idea, che insomma sia questo che ci rassicura sul fatto che quest'idea che noi stiamo promuovendo sia veramente buona. Siamo riusciti a coinvolgere in questa attività che tende a formare l'imprenditore in campo green, 30 scuole, 58 classi, circa 1200 studenti sono stati formati per costruire un'impresa, una micro-impresa green, quindi per elaborare il business plan, per raccogliere i fondi che costituiscono il capitale di questa micro-impresa, per disegnare il prodotto e servizio finale e anche per realizzarlo. Le iniziative che si fanno per il futuro, come questo progetto, ottengono nelle nostre intenzioni due obiettivi. Il primo è di migliorare la qualità della vita, ma soprattutto indicare a voi giovani che c'è anche una possibilità importante di lavoro alcuni di questi vostri lavori, di queste vostre iniziative e mi pare che avete colto benissimo lo spirito di questo Green Jobs, lo spirito di un'iniziativa che a voi giovani vuole offrire speranza, fiducia nel vostro avvenire e che possiamo questo mondo, soprattutto per la vostra iniziativa, migliorarlo. Noi siamo i ragazzi di Step Up. Abbiamo realizzato un'applicazione che conta i passi e più passi si fanno, più si ottengono sconti nei negozi del centro città di Como. Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Vasconi, responsabile della produzione della Ember. Siamo partiti da una domanda, qual è il problema che più affligge noi giovani? E sono l'utilizzo dei dispositivi e soprattutto quando si scaricano. Dopo un lungo mese di ragionamenti siamo arrivati alla e-shirt. La e-shirt è una maglietta dotata di pannelli solari flessibili molto leggeri, pesano solo 3 grammi, in grado di garantire la carica e ricaricare vari dispositivi elettronici. La nostra maglietta in più invoglia i ragazzi a andare a fare attività all'aria aperta, funzionando solo con il sole diretto. Il secondo anno che attiviamo questo progetto è un progetto di orientamento, di formazione, che mira a dare ai giovani degli strumenti di alternanza scuola-lavoro, che mira a dare ai giovani degli strumenti per trovarsi un lavoro in ambito green e costruirsi un lavoro di tipo green. È un progetto particolare che avvicina ancora di più i giovani al concetto della sostenibilità, ma soprattutto fa capire ai giovani, ai futuri manager e imprenditori, che la sostenibilità e l'ambiente può anche trasformarsi in una professione. Il nostro progetto è una pensilina per le fermate degli autobus. La maggior parte di noi prende l'autobus tutti i giorni ed è costretto ad aspettarlo sotto la pioggia o sotto il sole. Ecco perché volevamo risolvere questo problema sociale grazie a una copertura. E inoltre volevamo aiutare anche l'ambiente della nostra città. La quantità di smog nell'aria raggiunge dei limiti superiori anche a quelli di Milano. Ecco perché con un albero all'interno della struttura centrale, abbiamo scelto l'albero di Prunus, è in grado di mangiare lo smog nell'aria. Quindi mentre aspetti l'autobus sotto a una copertura, quindi al coperto, riesci anche a respirare aria pulita. Noi puntiamo alla fine del mese di avere la nostra pensilina posizionata nel centro della città di Crema. Swap è l'applicazione che nasce da un'esigenza di dare nuova vita agli oggetti che abbiamo in casa, ma anche da un senso di pigrizia che ci affliggerà a tutti. Permette di creare un post insieme a una foto e una breve descrizione dell'oggetto, mettere a disposizione il tuo immobile o ciò di cui tu vuoi sbarazzare, in modo tale che qualcuno di cui è interessato alla tua offerta potrà venire gratuitamente a ritirare. La mancanza di riciclaggio di ciò che abbiamo in casa è a livelli altissimi. Swap si inserisce nella sharing economy, ovvero della condivisione dei nostri oggetti, senza dover andarle a buttare. è entusiasmante, perché abbiamo trovato un livello di competenza che in dei ragazzi così giovani probabilmente è piuttosto raro. abbiamo trovato grande fantasia, ma anche grande pragmaticità, idee veramente interessanti, molte innovative, quasi nessuna banale. Tutto il progetto Green Jobs ha davvero un grande valore, perché dà la possibilità ai giovani di confrontarsi in maniera diretta e anche coinvolgente con delle tematiche fondamentali. E poi c'è tutto l'aspetto di educazione e di approfondimento delle tematiche green, che diventando l'oggetto di un'iniziativa che loro portano avanti in prima persona, prende vita e diventa realmente qualcosa di concreto del quale loro si rendono conto nella loro vita quotidiana. Green Jobs finisce quest'oggi, ma in realtà anche nell'edizione dell'anno scorso ci siamo accorti che i ragazzi in effetti poi continuano questo viaggio e questa avventura facendo un po' tesoro delle competenze che hanno appreso durante l'esperienza. Abbiamo infatti diversi casi di ragazzi che poi si sono ancora messi in gioco pur essendo finito Green Jobs, grazie a tutte le cose che avevano imparato. Green Jobs mi ha permesso di capire che quello che faccio nel tempo libero lo posso applicare nella mia carriera lavorativa. Mi ha permesso di capire chi sono. Oggi abbiamo visto la varietà di proposte che sono state presentate e qui ci sono 1200 studenti appassionati che hanno voglia di essere attori del loro domani e questa è la dimostrazione più importante anche quest'anno che questa strategia è interessante e che così forse riusciamo a dare delle risposte che si svilupperanno nel tempo, non sono risposte immediate ma sono risposte sostenibili per un futuro sostenibile. Grazie a tutti.